Forse, cari amici, adesso è chiaro perché un anno fa abbiamo anche contro le resistenze del vostro gruppo dirigente, del nostro gruppo dirigente di allora, scelto di prolungare la legislatura. Non era, come qualcuno ha detto semplicemente, un desiderio di allungare la vita di uno scanno parlamentare. Era qualcosa in più. Era l'idea che la politica potesse convertire il populismo. Era l'idea che un governo sovranista potesse diventare un governo europeista. E mi rivolgo a voi perché la partita inizia adesso. Il bello o il brutto, il difficile inizia adesso. Saremo capaci di assumere la leadership per cui l'assistenzialismo diventa crescita, il giustizialismo diventa garantismo, la capacità di scommettere sul populismo diventi voglia di scommettere sulla politica. Questa è la sfida, signor Presidente.